Sarà un weekend di prevenzione all'Aquila grazie al centro Sismar Servizi Abruzzo che ha organizzato per domenica un open day nella sede in via Piemonte, zone Macchiole, dalle 10 sino alle 16.30. Un'occasione per vedere anche il moderno centro, accolti dal pool di professionisti che vi operano. Ci sarà un incontro con chi decide di entrare in questa struttura per quanto riguarda l'attività di dermatologia, di senologia, nei suoi vari aspetti. Quindi ci sarà la possibilità di un'attività clinica che possa così mettere in risalto quelle che sono le caratteristiche di un'azione di prevenzione secondaria. Ci saranno delle visite gratuite nel senso che l'utente potrà effettuare delle visite? Esattamente, vengono qui, sanno che domenica ci sarà l'apertura della struttura a tutti coloro che vorranno essere presenti e chiaramente saranno delle visite specialistiche gratuite con delle, come dire, ci sarà anche la possibilità di avere immediatamente un referto su quella che è l'attività sia dermatologica che senologica. Controlli in dermatologia oncologica ed estetica, ma anche visite senologiche per la prevenzione delle patologie al seno e consigli per la chirurgia ricostruttiva. Il centro SISMER del resto, sin dalla sua nascita, oltre all'ordinaria attività, mette in piedi spesso iniziative sociali rivolte a tutta la popolazione. La dermatologia oncologica si occupa principalmente della prevenzione dei tumori della pelle, quindi questa giornata punta a sensibilizzare la popolazione aquilana sul melanoma e sui tumori cutanei. Quindi i tumori cutanei a non melanoma sono rappresentati dagli epiteliomi, epiteliomi basocellulari, epiteliomi squamocellulari e tutto poi lo spettro delle lesioni precancerose, di cui le keratosi attini che sono sicuramente il principale protagonista in quanto hanno una elevata incidenza nella popolazione generale. Quindi il melanoma oggi ha una soglia di incidenza molto molto bassa, quindi è un tumore che colpisce una popolazione giovanile e noi vogliamo proprio sensibilizzare i giovani. Un'altra branca invece di cui mi occuperò è la branca della dermatologia estetica, quindi qui nel centro abbiamo dei sistemi innovativi tra cui la teosial pen, che è un dispositivo che permette di effettuare dei trattamenti con acido ialuronico senza dolore ed è un trattamento quindi molto innovativo che noi proponiamo alle nostre pazienti. Quindi faremo in questa giornata delle valutazioni di medicina estetica gratuite e delle visite di dermatologia oncologica, quindi prevalentemente la mappatura dei nevi gratuite.